Il giocatore dell'Inter è un piacere di studiato di raggiungo? Sicuramente, più che altro perché è stato strameritato, non meritato fin dalla prima giornata di essere davanti, quindi sicuramente è un piacere che abbia venuto. Invece da ex giocatore dell'Inter, ma da compagno di squadra di Carboni, io ti chiedo, secondo te lui ha le stigmate del campione? Ha delle grandissime qualità, perché altrimenti non sarebbe stato convocato nella nazionale argentina. È giovane, ha ancora tanti agili di miglioramento, io cerco di consigliarli il più possibile, perché quando vedo questi talenti non voglio che vengano sprecati, però lui ha la testa sulle spalle, è un grande lavoratore, quindi sono sicuro che fra un paio d'anni diventerà un grande giocatore. Grazie.